Ciao a tutti, oggi è il primo dicembre, quindi vi faccio vedere proprio per il primo dicembre quello che è uscito nei calendari dell'avvento allora, come vi ricordate, io ho preso quello della ciattè quello della ciattè, il numero uno è questa adesso la tiro fuori cercando di non rompere la scatolina perché le scatoline sono troppo belle allora, dietro le scatoline c'è anche una scritta upgrade your polish with gelology for a powerful pigmented plumping an extreme shine formula with gel wear finish in pratica sta dicendo che sopra lo smalto poi bisogna mettere gelology per diciamo per una pigmentazione più forte e questo gelology che forse molto probabilmente è un top coat fa in modo di avere una brillantezza estrema e un finish gel questo scritto dietro mi piace il colore come sono fatte le varie scatoline e questo è uno smalto formato mini sono 5 ml 24 mesi dalla scadenza questo sotto è il sito internet della ciattè lo smalto è questo gold digger è un rosa che tende sul grigio forse io non riesco a farvelo vedere bene ma è molto bello mi ci sono fatta già la manicure anche se non ho ancora finito di farla quindi non state a guardare che diciamo ho finito un po' tardi oggi sono quasi le 7 mentre lo sto girando quindi ho molta premura di andare a mangiare di fare un sacco di cose scusate se lo dico però purtroppo ci sono giornate in cui veramente c'è un sacco di roba da fare quindi purtroppo è così questo è lo smalto il risultato di due passate veramente un bellissimo smalto e questo invece è è messo qui sopra veramente bellissimo e sono stata brava perché non sono andata a guardare che cosa c'è nelle altre scatoline vediamo adesso al calendario della 20 della NYX lo apriamo perché è fatto a libro il numero 1 è questo ops e questo è un rossetto io purtroppo diciamolo già rotto per cercare di aprire il rossetto e è della linea soft matt sono 4,7 ml non so se si riesce a vedere bene no mi sa di no adesso così si la scadenza dall'apertura sono 18 mesi gli ingredienti mi sa che non si vedono bene perché è troppo troppo scuro comunque si chiama Monte Carlo e questo è il colore veramente un bel rosso si si molto carino adesso lo rimetto dentro spero ogni giorno di riuscire a farvi vedere i due pezzi sia del calendario chatte sia della NYX e con questo vi saluto un bacione a tutti ciao ciao